Autore del brano Lipi Zerriano, che ascolteremo oggi addirittura, addirittura in prima assoluta. Entriamo oggi nella fase delle semifinali. Questa è la rosa dei 15 concorrenti ammessi alla seconda prova. Questi sono Chi febdo è dalla Francia Ljubas Luka, dell'Austria Kim So-In, Corea del Sud Carmena Bamenoer, Kazakistan Raskazo Vitali, Russia Matsuyama Michiru, del Giappone Lee Kun-Wa, Corea del Sud Chan Tsuti, Taiwan Sam Eli, dell'Australia Don James Jung-D, Australia Xi'ek Tianren, Cina Kim Si-Yan, Corea del Sud Marka Siuk Victoria, dalla Russia Okaya Megumi, dal Giappone E Kuratomi Ryota, dal Giappone E' doveroso dire che, dato il bel livello del concorso, anche i buonissimi elementi sono rimasti esclusi, e ciò seguendo strettamente il punteggio della gala torna. Questo è l'ordine delle prove, oggi pomeriggio si esibiranno tre concorrenti, questa sera altri tanti, domani continueranno le prove alle ore 10, alle 15.30 e alle 20.30. Al termine di tutte queste prove, la giuria si riunirà per decidere i sei violinisti che entreranno in finale. Oggi, fra i vari brani proposti, ascolteremo in prima assoluta, appunto, il brano Lippi Ferriana, per violino e pianoforte, scritto espressamente per questa edizione del concorso, dal compositore Carlo Bellini. Ricordo che anche quest'anno è stato indetto il premio del pubblico, offerto da Sandra Zotta, Federico Maurizio e Maria Clara Magris, per onorare la memoria dei musicisti goriziani Ucci Leghissa, Umberto Corugolo, Ernesto Leonardi e Sabino Lovisutti. Vi preghiamo di ritirare la scheda alla cassa, votare per il concorrente preferito, quindi inserire la scheda nell'apposito raccoglitore. Passo ora ad annunciare il primo concorrente di questo pomeriggio. E' appunto Kiefer Chloé, dalla Francia, nazionalità francese, di 26 anni. Eseguirà nell'ordine Beethoven, suonata in sol maggiore, opera 30, numero 3, Paganini, capriccio numero 17, dall'opera 1, Pedini, di Pizzeriana, per violino e pianoforte, e Lutoslawski, subito, per violino e pianoforte. Verrà accompagnata da entrambi i pianisti, il Gazetzer e gli Evgeni Sinassi. Buon ascolto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.